Ciao, sono Noemi Signorile, sono un paleggiatore. Noemi inizia una lunga estate in azzurro, che cosa ti aspetti? Mi aspetto una bella estate, spero il più lunga possibile, quindi mi aspetto che sia una bellissima estate. È stata anche una lunga stagione con il club, come la reputi? Diciamo che parte la Supercoppa che abbiamo vinto, quindi è andata bene, il resto un po' così, magari ci aspettavamo di fare meglio, è andata non proprio come volevamo, però un anno ci può stare. Un saluto per i lettori dei volley. Ciao a tutti!